Insomma, adesso non nascondiamoci, ma tutta questa battaglia sull'immigrati e sui neri, ma questi, i supermercati vanno a comprare, cioè fanno girare il PIL, non è così automatico che queste persone vivano lì di aria e non contribuiscano a far girare un po' di economia. Sono naturalmente con le balle populiste che si raccomano, insomma, questo. Dunque, bisogna ripartire da lì. Questa è un'idea che già gira.